Io non ho mai voluto essere la numero due, io ho sempre voluto guardare in alto, ho sempre guardato in alto. Non smettere mai deve probabilmente essere il leitmotiv della tua vita, no? Sì, il duro lavoro insieme allo studio paga sempre, a volte è una questione di tempo. Io sono una persona, lo sono stata probabilmente più nel passato, molto impaziente. E all'epoca ricevere dei no per me è stata una sonfitta, tantissimo, proprio nella mia fierezza di dire io voglio fare questa cosa. A distanza di qualche anno sento che chi mi ha detto di no ha fatto la cosa giusta. Ha contribuito a quel gradino indispensabile. Assolutamente, ad aumentare la mia foca di voler fare bene. Non avrebbe potuto essere altrimenti, se non con una diga. Bentornati a tutti a Fuori Tema, siamo con Valentina Clemente, giornalista e in realtà esempio di strosa contraddizione tra passione e professione. Tu Valentina stai facendo una carriera incredibile e per quel che ti conosco io sei un ottimo bilanciamento tra appunto passione e impegno, dedizione. E' così che si fa? Sicuramente, innanzitutto alla base di ogni attività, di ogni cosa che si fa nella vita, la passione è il punto di partenza. Se non si ha una passione da perseguire, da coltivare, da portare avanti, non si va da nessuna parte. E' uno dei più insegnamenti più grandi che mi ha dato mia mamma e che cercherò di diffondere il più possibile e che condivido spesso anche con le nuove generazioni di giornalisti che scelgono sin da piccoli di fare questo mestiere. Un mestiere come tutti che deve partire appunto da una passione, ma serve tanto lavoro. Non si costruisce nulla soltanto con la passione. Serve tanto studio, tanto impegno. Bisogna crederci, eh? Perché in tante occasioni mi è capitato di dire, ma sto facendo una cosa giusta, perché ci credo così tanto? Mollare? Ci ho pensato forse per qualche secondo, poi il verbo mollare mi ha subito lasciata. Non ti appartiene. Non mi appartiene. È proprio una volontà ferrea, serve per fare questa professione. La vedo un po' come una vocazione, perché non ci sono orari. Se si sceglie di fare questo lavoro in un determinato modo, gli orari non ci sono. Non ci sono giorni della settimana, off, non off. Quindi passione sì, ma tanto, tanto lavoro. Infatti uno dei tuoi codici stilistici di riconoscibilità è il fatto che tu, nella mucchezza di tutte le attività che hai svolto nella vita, in realtà ti potrebbe dire che non hai rinunciato a nulla. Cioè da quello che hai amato a quello che hai dovuto fare, sei stata una grande viaggiatrice, parli un sacco di lingue, un numero che forse ha precisato. Magari. Però voglio dire, è bello sentire, se capisco bene, il fatto che l'ossessione, è vero, probabilmente supera sempre il talento, ma il talento è amare ciò che si fa, è la condizione necessaria, probabilmente. Sì, ripeto, è il punto di partenza. Io mi baso molto anche sulle parole di Kobe Bryant, che è uno dei miei modelli di riferimento, perché lui ha fatto dell'ossessione il suo modus operandi nella vita. Un'ossessione positiva, che lo portava in palestra a tutte le ore del giorno, a rinunciare anche a stare con la famiglia, ma insieme all'ossessione, alla passione per il gioco, lui ci ha messo tanto lavoro, tanto studio. Io credo che sia una sorta di modello da tenere per la vita di ciascuno di noi, perché se si vuole eccellere, io non ho mai voluto essere al numero due. Io ho sempre voluto guardare in alto, ho sempre guardato in alto. Quindi il duro lavoro, insieme allo studio, paga sempre. A volte è una questione di tempo. Io sono una persona, lo sono stata probabilmente più nel passato, molto impaziente. Avrei voluto vedere subito i risultati. Ho ricevuto tanti no. E all'epoca ricevere dei no per me è stata una sconfitta. Dolorosa. Tantissimo, proprio nella mia fierezza di dire io voglio fare questa cosa. A distanza di qualche anno e non voglio fare la vecchia zia, sento che chi mi ha detto di no ha fatto la cosa giusta. Ha contribuito a quel gradino indispensabile. Assolutamente, ad aumentare la mia foga di voler fare bene. Non avrebbe potuto essere altrimenti, se non con una diga. E quindi trovare altre strade. Sì, mi ha spinto a fare altro, mi ha spinto a crederci comunque sempre tanto e a lavorare ancora di più. Per dimostrare paradossalmente più a me stessa che a chi mi aveva detto di no, che quel no era sbagliato. Io volevo farcela e giorno dopo giorno mi sto ancora costruendo questo percorso perché io lo vedo come una... Un continuo crescere, un divenire. Sì, è un processo in fieri, in divenire proprio perché non ci si ferma mai e non si smette mai di imparare. Non è un modo di dire, ma io lo vedo giorno dopo giorno. Voglio dire, questo che tu dici è talmente giusto, ma nel tuo caso è anche talmente vero che si applica, si sovrappone anche al suo ruolo nel mondo. Nel senso che la liquidità è un fatto rapsodico, isterico, cangiante continuamente. Quindi veramente probabilmente non smettere mai deve probabilmente essere il life motive della tua vita, no? Assolutamente. Tu sei una persona che per sobrietà e professionalità si fa molti meno complimenti fortunatamente di quelle che riceve. Però te lo faccio io e te lo faccio ponendoti una domanda. Cioè c'è stato un momento, sebbene il percorso come tu dici è stato ascensionale, lento, come tutti i percorsi di scuosi, in cui hai iniziato a baggire dentro di te il pensiero piccolo, timido, soffuso del ce la sto facendo. E se sì, quando? Perché il tuo non è un lavoro facile. Cioè è pieno di giornalisti. Sì. Però tu hai fatto tanta strada, no? Sì, è un'ottima domanda che... Cioè quella vocina, sai? Che quel pomeriggio alle tre, nella controra, come si dice a Napoli, quando non accade nulla. Sì, allora, premetto che le parole che hai usato sono perfette, da ottimo giornalista quasi, e che io non amo molto parlare di me. Su questo, come ben sai, sono molto più bravo a fare le domande anziché rispondere alle domande. E io invece viceversa, quindi dovremmo scambiarci di posto, incredibile. È un inedito. Esatto. Breaking news. Notizia dell'ultima ora, potremmo usare una terminologia a noi molto nota. Quindi non ho mai... Valentina risponde Luca domanda. Esatto. Pazzesco, ci è mai accaduto? Sarà un giorno da ricordare, questa sarà un'intervista da ricordare. E quindi non sono una che ama dirsi, wow, appunto ce l'ho fatta, sono brava, sono arrivata dove volevo. Sicuramente queste piccole conferme mi vengono da quando riesco ad instaurare una fiducia con le persone con cui ho a che fare. Nel senso, recentemente mi è capitato di intervistare alcuni artisti molto importanti. Parliamo di Lenny Kravitz che comunque nel suo mondo è sicuramente uno dei numeri uno. Assolutamente. Un'icona. Un'icona, esattamente. Quindi il poter instaurare un rapporto diretto con un artista di questo genere e parlare la stessa lingua, senza differenze, quello sicuramente è stato uno stimolo per me stessa dire sei sulla strada giusta, non ce l'hai fatta, ma sei sulla strada giusta, stai facendo le cose come devono essere fatte. Però prima di arrivare lì c'è stato tanto lavoro su di me sicuramente, di studio, di rispetto, paradossalmente anche rispetto delle pause delle persone, no? In questo mi ha sempre aiutato molto. Per decomprimere. Esatto e questo è un dono che mi ha lasciato tantissimo la danza classica che ho fatto per tanti anni come passione e anche lì torniamo al concetto iniziale appunto di passione. Una passione che mi ha plasmata sicuramente il carattere perché la danza non è così facile, sembra tutto facile quando si vede, ma ci sono anni di studio, di rinunce, di disciplina e quella disciplina si è poi trasformata. Trasolata in tutte le attività, nello specifico nell'attività lavorativa. È una meccanica, è un metodo che poi si applica. Esatto. Ed è bello quello che dice anche perché voglio dire l'invisibile talvolta è più significativo del visibile. Quando tu mi parli di pausa, metaforizzando sulla danza, immagino anche il fatto che nella musica le pause sono importantissime. Sebbene tu non le veda e quindi appartengono all'invisibile, danno un'armonia, una continuità. Uno dei tuoi codici, di nuovo, stilistici di riconoscibilità e che io apprezzo maggiormente per quel che ti conosco è che you did it your way, cioè l'hai fatto a modo tuo. E questa cosa si rifrange nella attualità, nella tua quotidianità in questo modo, due punti. Cioè tu ti occupi, sei appassionatissima di politica estera, ti occupi di attualità su Sky, ti occupi di ciò che accade tutti i giorni, di politica. Però forse dove sei più ferbente, dove scalpita di più dentro di te, è l'aspetto della cultura. E per cultura si intendono tutte quelle verticali artistiche di cui tu ti occupi, ovvero dalla musica, alla poesia, all'arte. Noi abbiamo un amico in comune, a cui è molto bene, che salutiamo, il legge Antiro, che è uno dei artisti pop attualmente più importanti al mondo probabilmente. E' una persona eccezionale. E' una persona eccezionale, che organizza matrimoni in cui si conoscono i critici d'arte e i giornalisti. Matrimoni incredibili con il Gian Piero, sicuramente è one for the books, con cui sono gli Stati Uniti, uno da ricordare. E quindi volevo chiederti, anzi, questa tua deriva di amore, perché poi amore nei confronti della bellezza, che si esprime attraverso le arti, di cui tu ti occupi tutti i giorni, è decomprimere o scalpitare verso quella roba lì? Declinare più che comprimere. Sì, declinare. E' una delle tante declinazioni delle mie passioni. Questo sì. Citavi la politica estera, per me le elezioni americane equivalgono al giorno di Natale. Cioè io aspetto il novembre di ogni quattro anni, come i bambini attendono Babbo Natale e scendere dal camino, no? La musica è sicuramente un altro elemento di questo mio declinare la mia passione nelle cose. Mi piace pensare che raccontare la musica sia importante, raccontare... perché spesso c'è questa tendenza a dire, ah vabbè, ti occupi di musica, è forse un aspetto minore. No, la musica è importantissima per il nostro paese, ma a livello internazionale. Gli artisti hanno una voce potentissima attraverso la musica, possono diffondere messaggi, possono veramente influenzare anche le persone. E' la nuova poesia. Assolutamente. La sovracoperta del mondo. Immaginiamo, adesso, guardando alle elezioni americane, Taylor Swift, una delle artiste più amate in tutto il mondo, sold out, veramente globali, ha una voce importantissima per influenzare i giovani e dire loro di andare a votare. Cioè sposta a masse. Assolutamente. Veri influencer. Sì, verissimi. Quindi io credo che la musica sia veramente importante per la cultura di ognuno di noi. E il fatto di poterla raccontare nel mio piccolo, passo dopo passo, di tirare fuori anche dagli stessi musicisti qualcosa in più che vada ben oltre, non so, la stesura dei testi. Perché dentro i testi c'è un mondo da scoprire. Ed è giusto che attraverso un linguaggio semplice e non semplificato, che sono due cose diverse. Assolutamente. Un linguaggio semplice che può essere compreso da tutti, perché tutti hanno la stessa dignità, tutti hanno gli stessi diritti di capire quello che raccontiamo. E quello è un po' una mia piccola battaglia personale quando sono in onda del telegiornale o quando scrivo un articolo o quando intervisto delle persone. di far sì che tutti comprendano tutto allo stesso modo. Poi ciascuno di noi, a seconda di quello che riceve, può fare un proprio pensiero. Però è importante che il messaggio sia distribuito e sia mandato. Diciamo che l'alfabeto della musica è quello delle motività. Penso al fatto che negli anni 70, probabilmente, Bongo Asenfeld scrive un libro che si chiama Il costruttivismo radicale. Questo libro parla, è un saggio molto interessante, del fatto che per quanto possano essere articolati i vari linguaggi tra le diverse popolazioni, in realtà esiste una incommunicabilità a causa di una intraducibilità che è più culturale che è del linguaggio tra i vari popoli. E lui risolve questa matassa dicendo che in realtà il linguaggio più diretto, ovvero proprio quello che stavi dicendo tu, è quello della musica, pur avendo un alfabeto più semplificato o semplice, nel senso che ha soltanto sette lettere, ovvero le sette note. Ma essendo esso fondato su un'emotività, su un aspetto sentimentale, non c'è più alcuna differenza tra le popolazioni indigene e le più sviluppate al mondo, dinanzi alla cavalleria rusticana di Mascagni. Cioè va a toccare quelle corde lì, che sono le corde, come dire, della comunicazione del pathos, quella lì che probabilmente oggi, insomma, in una modernità, appunto, isterica, gezzistica, si sta un po' per dentro. E poi, dopo questo grande castello espressionista, mi viene in mente poi la semplicità delle nostre radici, adesso arriviamo anche alle tue, Edoardo Filippo diceva, la musica sta nell'aria, ce la devi cogliere, e quindi tu con sette note hai infinite proiezioni. Qual è il tuo rapporto con le origini? Cioè quel paese da cui tu vieni, lo ringrazio, lo maledici, come io non so nulla di questo. Allora, io sono nata in un piccolo paese in provincia di Padova che ha circa 3.000 abitanti. Da qui sono letteralmente fuggita a circa 20 anni quando sono andata a studiare negli Stati Uniti. Ecco, un grande privilegio che mi hanno dato i miei genitori, e per questo e per molto altro sarò per sempre grata, è di poter scegliere. La scelta. Mi hanno detto, cosa vuoi fare? Scegli, cosa che molti miei coetanei all'epoca non hanno avuto. È un privilegio questo. Sei nelle grandi mani dietro? Sì. Quindi c'è stata un'amata incoraggiata, non un'amata otturata dal pensiero di all'altro. Sì, assolutamente. Tra i due sicuramente mia mamma è quella che ha fatto il 90%. Lei stessa mi ha sempre incoraggiata a viaggiare, a studiare, perché lei stessa mi diceva per andare in giro devi sapere le lingue, devi studiare, devi avere una buona educazione. Quindi sicuramente le basi mi sono state date dalla mia famiglia. Poi anch'io però avevo questa necessità di dimostrare di potercela fare, perché quando hai questo grande privilegio, che poi riconosci quando sei un po' più grande, no? Perché lì per lì ti senti entusiasta all'idea di partire. Io comunque ero all'altra parte dell'oceano, era a Los Angeles, in una città che non conoscevo. Avevo sicuramente delle ottime basi, perché io avevo fatto un liceo americano, quindi avevo studiato tutto in inglese. A Los Angeles? No, no, alle superiori. Ah, ok. Allo liceo. E avevo il diploma bilingue, quindi sicuramente il fatto di avere un'ottima base linguistica mi ha aiutata. Però poi mi sono dovuta conquistare tutto. L'America, e io lo dico sempre, è un paese che io amo alla follia, ma ti mette davanti alla verità nuda e cruda, che ce la devi fare da solo. Non importa da dove arrivi, puoi essere losangelino, ma puoi arrivare anche dal più piccolo paese in provincia di Padova, come questo è il mio racconto. Ma se vuoi farcela e puoi farcela, devi scommettere su te stesso. Assolutamente. E' un posto, oltretutto, in cui hai la netta e chiara percezione, per cui a ogni metro della tua strada può cambiarti la vita, o il meglio o il peggio. C'era questa frase, non ricordo di chi, riferita a New York, in cui si diceva, c'è qualcosa nell'area di New York per cui si evince che il sonno è un fatto inutile. Fare, 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 però fare, fare, fare anche in una geografia che sa rispondere ai tuoi stimoli, voglio dire. Cioè, forse il tremendo dei giorni d'oggi qui da noi è proprio questo, cioè per quanto uno possa impegnarsi, molto spesso il contesto non risponde, noi siamo privilegiati anche perché viviamo in una città che si allinea molto alla nostra volontà. Sì, però ti dicevo appunto che partire da quel paesino è stato sicuramente uno stimolo. Se io non avessi avuto, come sottolineavo, la possibilità di scegliere, probabilmente adesso non farei quello che sto facendo. Poi però è stato un crescendo. Non torno molto spesso dove sono nata, ma sento che ho la, io mi sento veneta al 100%, questo è innegabile, sono fiera di essere, anche se ho magari influenze, mi sento molto vicino alla cultura napoletana per tanti motivi, insomma, quindi questo è un po' un melting pot di cui io sono costituita, di cui sono creata, però ecco, è stato, è stato molto importante per me crescere lì, ma soprattutto riconoscere di poter andare e esplorare il mondo. Non mi sono mai integrata bene all'interno della realtà del mio paese, non ho mai sentito grandi vicinanze anche con i miei coetanei, proprio perché io sognavo in grande. Cioè, radici ma non vincoli. Sì, assolutamente. Non ho mai sentito la necessità di trovarmi un fidanzato e sposarmi entro i 30 anni e avere la casa con il cane. È sicuramente uno degli elementi che magari chissà un giorno riuscirò ad avere, perché io non escludo. Però nella scaletta delle priorità? Non era mai stato. Sicuramente, ripeto, una cosa che vorrei fare, perché fa parte del mio essere, della mia essenza, questo sì, però non l'ho mai visto come il punto di arrivo. Mai. Il mio desiderio era andare negli Stati Uniti, studiare, viaggiare. Quindi, fare un lavoro che mi desse la possibilità di essere me stessa, di migliorare. Tu ti sei spesso definita ambiziosa e lo sei, però io non condivido su questa cosa, nel senso che non condivido facendoti un complimento. Cioè, io credo che chi voglia avanzare nella propria vita si divida in due categorie, si possa definire in due definizioni, ovvero l'ambizioso e il sognatore. Adesso, l'ambizioso è colui il quale trova nella sua realizzazione un corrispettivo, che può essere il punto in banca, la protezione sociale, ma il piano è ben definito. Il sognatore, invece, no, non ha gangheri, non ha prove del nove, cartine di tornasole dell'avercela fatta. Cioè, il sognatore può dirsi soddisfatto anche senza un euro, perché sta perseguendo un disegno soffuso, astratto. Quindi tu, con grande determinazione, ti sei sempre dimostrata ambiziosa, anche nella tua professione, però si potrebbe dire che hai un lato da sognatrice importante. Certo, assolutamente. Uno dei miei motto è Hold on tight to your dreams, tieniti stretto ai tuoi sogni. Ho questo ricordo del mio primissimo viaggio negli Stati Uniti, è stato l'estate della maturità, e andai in Michigan, da una famiglia amica, diciamo, dei miei genitori, che oramai è la mia famiglia americana. E quel periodo per me è stato illuminante, da lì ho detto voglio andare negli Stati Uniti a studiare. E mi regalarono una cristal bone, insomma, una di queste palle di cristallo, proprio di un kitsch incredibile, con scritto Hold on tight to your dreams. ed è una delle pochissime cose che ho sempre portato con me in tutti i traslochi che ho fatto, in ogni posto, perché mi ricorda... È il tuo amuleto, il tuo totem. Sì, mi ricorda che quello è il punto di partenza. Senza sogni e passione, anche lì poco fai nella vita. Si appassisce, si appassisce. E il segreto, secondo me, è continuare a sognare. Cioè non è che dici, ho il sogno di fare una determinata intervista, fatta quella intervista smetti di sognare, no? Devi trovare un'altra cosa, è un continuo, devi alimentare i tuoi sogni. E anche la condanna di chi realizza i propri sogni. Cioè, realizzare i propri sogni, come dire, contiene endemicamente questa ambivalenza per cui realizzi sempre il sogno nella fattispecie, ma c'è un sogno di ordine generale che è come l'orizzonte, cioè lo insegui ma si allontana sempre da te e quindi diventi ti unologato e poi va, 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 va. No, questa cosa è molto significativa che dici, ma faccio una domanda cosmica. Chi è il giornalista oggi? È un'ottima domanda. Io credo che un giornalista innanzitutto sia una persona che studia tanto, che non smette mai di farlo, che si documenta H24, che non guarda l'orologio, che si appassiona a determinati ambiti. Io credo poco in chi sa tutto di tutto. Nel senso, in generale, nella vita, non soltanto nella professione giornalistica. Mi piace avere delle persone di riferimento per determinati ambiti, perché ci sono gli specialisti di un certo livello. Quindi io apprezzo molto che riesce a specializzarsi in aree del mondo specifiche, no? Perché poi quello lo comprendi quando questa persona sa raccontarti cose difficili in maniera semplice. Potabilizzare. Esatto, che è quello l'obiettivo e torniamo al discorso che facciamo prima. Quindi un giornalista, come dicevo, deve studiare, deve documentarsi, deve saper verificare le notizie. Le fonti. Fondamentale. In un mondo che va veloce, c'è la tendenza, no? A dire, do la notizia per primo, perché chi arriva per primo vince. Certo. Ma non sempre è così. Meglio fare una verifica in più. Magari arrivare qualche secondo dopo, però dare una notizia corretta. Certo. Ed è quello il lavoro primordiale che bisogna fare. Ricordarcelo soprattutto adesso, in un momento in cui siamo bombardati. Uso un verbo sbagliatissimo, sicuramente, ma rende l'idea per come siamo veramente sommersi, ecco, da notizie, da velocità. Bisogna avere più accuratezza e verificare di più. Riccardo Pozzoli una volta a una conferenza con me a Palazzo Mezzanotte disse una cosa molto interessante, che è poi sul paradigma di tutto quello che accadde negli anni dopo. Disse, oggi la modernità presuppone che non è più il pesce grande che mangia il piccolo, ma è il veloce che mangia il lento. Questa cosa è molto vera, però effettivamente, tranne che nell'informazione, c'è meglio trattenersi un secondo in più, ma dare in pasto la verità alla verità e non essere un centometrista da sprint che poi dopo ha il burrone, tutto sommato. Sì. E allora ti faccio una domanda cosmica e difficile. Ok. Cioè, con questa premessa, fatta questa overture, se tu fossi una notizia, che notizia ti piacerebbe essere domani? Mi piacerebbe, per come sono fatta io, essere una notizia che resta, importante, perché io ho una grandissima paura, essere dimenticata. Mamma mia, l'oblio, quanto mi spaventa. Ma soprattutto nella vita delle persone, al di là della mia professione, il fatto di non lasciare qualcosa... Una piccola traccia. Esatto, mi spaventa molto, perché dico, caspita, io mi circondo di persone che mi lasciano qualcosa, perché io non riesco a lasciare qualcosa nelle persone. Poi con il tempo ci fai pace, no? E dici, vabbè, non puoi lasciare tracce su tutti, però su qualcuno sì, no? È per questo che poi scegli le amicizie, ti circondi determinate persone, ecco. Quindi mi piacerebbe, adesso la faccio proprio grossa, grossa. Una breaking news che ti sconvolge la giornata, che però resta. Ha vinto la Repubblica, tipo questo. Esatto, ottimo esempio, perché ancora adesso ne parliamo, la festeggiamo la Repubblica. C'è una giornata dedicata nella nostra cultura, nel nostro calendario, no? E sì, quindi sicuramente questo. Cioè nella storia c'è un primo dopo Cristo, nel calcio un primo dopo Maradona, prima e dopo Repubblica. È la Repubblica dell'emotività, prima e dopo suffraggio universale. Uno scudetto del Napoli. È uno scudetto del Napoli, adesso è anche arrivato Conte, chissà cosa accadrà. Mentre la mia salernitana precipita sempre più in basso, mi sembri di cugini stupidi, purtroppo. Senti, c'è qualcosa che tu diresti, non tanto come consiglio, forse anche, anzi no, sia come consiglio che come attenzione, come monito, al ventriloco di te stessa, cioè la Valentina Bambina. È di non farsi abbattere dalle critiche non positive. Siamo circondati da persone che pur di buttarti giù ti criticano in maniera poco costruttiva, no? Le critiche io le vedo sempre in maniera molto positiva. però ho imparato nel tempo a scegliere da chi farmi criticare. Purtroppo il sentimento dell'invidia è che non mi appartiene, mio malgrado, perché credo sempre che sia sbagliato invidiare una persona. Vedo molto più vicino a me una competizione positiva. Una persona brava, anch'io posso essere così. Rubbi, apprendi, capisci, fai tuo. Esatto. Assolutamente. Ma senza che lui ti dia, te lo prendi tu. O serio, se tu immagini, allora, io arrivo nella realtà dove lavoro ora, a SkyTG24, non avevo mai fatto un corso di edizione. Arrivavo con il mio bagaglio di sette lingue all'epoca, sei, ne parlavo? Che ho iniziato alcuni anni fa, oramai. Poi ho continuato a studiare lingue, che non ho scontato, perché io ripartiamo dal tema iniziale e continuare a studiare e mai fermarsi. Sì, sì, mai. Never stop. Never. Ho rubato tantissimo da anchor americane, da anchor britanniche. Il mio modello è Barbara Serra, con cui ho lavorato. Hai iniziato tu, forse, con lei. Ho fatto, sì, sì, ho avuto una collaborazione perché un episodio su cui sorridiamo e che ricordiamo io e la stessa Barbara, quando ci è capitato in passato, io all'epoca ero in attesa di ricevere un contratto giornalistico e veni lasciata dal mio fidanzato. Ero da sola a Roma, ho detto qui devo inventarmi qualcosa, non posso adagiarmi, non voglio chiedere aiuto ai miei genitori, sono grande, tiriamo fuori qualcosa. Tira, ho detto raschi al baghide, è un periodo brutto ma ce la puoi fare. Mi sono detta con chi voglio lavorare? Sono le tre anchor al mondo con cui ho sempre voluto lavorare, ovvero Cristiana Manpoor, Katie Couric e Barbara Serra. Cosa faccio? Mando il mio resume, il mio curriculum, ma pensando che ovviamente ne ricevano tantissimi, scrivo una mail di scrivendomi i numeri, dal 7 allo 0. Quindi scrivo 7, 6, 5, salve sono Valentina e sono questa. 0 alla fine ho scritto 0 boyfriend, l'obiettivo era farsi notare, ok? Perché in una mare magnum ovviamente di mail, Barbara Serra mi rispose perché mi ha detto Valentina mi hai fatto sorridere perché ho visto quel 0 boyfriend e mi ha detto tu mi piaci e ti metto in onda. Una settimana successiva raccontavo il Movimento 5 Stelle in inglese su Al Jazeera. Pazzesco. Incredibile. Però vedi la creatività, lo slancio di creatività? Sì. Quella Napoli che scalpi da dentro, evidentemente ti ha fatto questo effetto miranidale pazzesco. Sì, sì, sì. E ancora oggi sorridiamo su questo episodio perché per come sono fatta io mai avrei immaginato di poter raggiungere quel livello, no? E quindi alla me piccola direi sì di continuare e di lavorare duramente su me stessa, duramente di coltivare le mie passioni nonostante magari le persone che mi circondavano e che mi circondano usano la cattiveria per buttarti giù. no, via, le zavore ce le lasciamo dietro, le persone che ti danno energie negative allontaniamole perché le sentiamo l'energia, io sono una molto che ingloba. Empatica. Sì, sì, sì. Chi mi dà energie negative, via dalla mia vita, non ti voglio più. Questo però si acquisisce con il tempo. Però appunto alla Valentina piccola direi. Non ti scoraggiare. Non ti scoraggiare, vai avanti, continua a fare come stai facendo. Anche perché il proseguimento di questo pensiero è una regola aurea proprio, di sezione aurea della vita, cioè che parlare male degli altri è molto più semplice che migliorare la propria vita. Si perde tempo, tra l'altro. Il tempo è tantissimo tempo. Il tempo è prezioso, bisogna dedicarlo a se stessi e alle persone per cui vale la pena spendere del tempo. No, ma migliorare la propria vita è proprio un po' di un giro. Screditare quella degli altri è solo un parlare, voglio dire. Quindi è facile se sei inesperto, e per inesperto è un termine giovane, cadere nel tranello del non credere in se stesso, voglio dire. E mi interessa questo lato. Tu conosci molto bene le due spuole, cioè Italia e America. Probabilmente nonostante siamo uno dei grandi paesi al mondo, o al mondo perlomeno lo siamo stati culturalmente, in realtà sono molte verticali per le quali secondo me siamo un po' indietro. Una di queste potrebbe essere il tema del fallimento, che è il raffronto rispetto a quello che accade negli USA. E si può estrapolare una teoria per grandi linee, con tutte le eccezioni del caso. Per cui il fallimento è meglio visto in America rispetto all'Italia. Cioè sbagliare, intendere una strada sbagliata in Italia, è come se ti bollasse per sempre. Cioè questo è un incapace. Non gli do più fiducia, le banche non fanno più credito. Hai balbettato in diretta, non fai più il fiducia. In America pare che ci sia questo lato, questa traiettoria per cui uno che non ha sbagliato è come se non abbia un valore, è quasi virtuoso sbagliare. Me ne parli per le tue esperienze. Guarda, fai pensare anche alla facilità che c'è negli Stati Uniti di cambiare lavoro, di cambiare società. Nel nostro paese c'è questa tendenza a dire entro in una compagnia, in una società e ci resto per tutta la vita. Negli Stati Uniti si fa una cosa del genere male, male, malissimo. Questo non rischia. Esatto. Questo è confortzonato. Esatto. Quindi la facilità, per carità, sono anche due sistemi economici diversi, culture diverse, quindi bisogna sempre contestualizzare. Io sono sempre contraria a dover fare dei pacchetti che si possono collocare in tutte le nazioni. No, assolutamente. È come quando tutti mi dicono Ah, ma l'America è un paese facile, bellissimo, eccetera. È facile essere risolto tu. Esatto. E poi bisogna conoscere prima di emettere delle sentenze che si emettono un po' troppo facilmente. Comunque, negli Stati Uniti appunto questa volontà di cambiare e semplicemente anche fare la scatola con tutte le proprie cose sia in una compagnia X e due giorni dopo nella compagnia Y non sempre con lo stesso cestino di cose, no? E lì è visto proprio come crescita. Una volontà. Una volontà è fondamentale per loro cambiare perché con più esperienze hai, più esperienze hai, più hai un valore, hai un quesito sfumature, ti sei adeguare a tutte le varie situazioni. Più esperienze hai, più ti espone al rischio di sbagliare, voglio dire. Sono culture diverse, questo sicuramente. Io credo sia fondamentale e importante, sto facendo una crasi, di conoscere veramente entrambe. Qual è la crasi di fondamentale? Volevo fare fondamentale. Fondamentante. Sì, qualcosa del genere. Importamentale. Un neologismo. Scusami, ti ho fatto perdere il filo, veramente. No, 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 però allo stesso tempo dico è bene conoscere entrambe le realtà. Credo che, ed è quello che io dico sempre, fare un'esperienza all'estero, che sia un periodo di studio, di lavoro, è fondamentale. Lo diceva anche Eco. È importantissimo. È importantissimo. Perché ti, oltre ad allargarti la mente, proprio ti aiuta anche ad approcciare alle situazioni in maniera diversa. a volte, magari, io parlo da un punto di vista personale, l'esperienza negli Stati Uniti mi ha reso ancora più, non testarda, ma caparbia, che è un aggettivo... Tenace. Tenacissima. Cioè, non mi butti giù, neanche se... Magari posso avere dei momenti di debolezza, perché siamo umani. Umana, amica. Bachman. Però quando entro nella... Modalità Valentina Clemente. E non ce n'è per nessuno. No, 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 no. Mentalmente come Djokovic. Esatto. Esatto, esatto. Quindi, ecco, io credo che il tema del fallimento negli Stati Uniti non è che non è trattato, ma è semplicemente visto in modo diverso. Come un'opportunità di crescita. Si sbaglia, si impara. Non si sbaglia se è un fallito. Sì, sì, me lo diceva anche Lago. Il mio staff lo sceglie in base ai fallimenti che hanno fatto. Nel senso, non ho proprio intenzione di mettermi vicino uno che non ha mai fallito e che, dunque, non sa come risolvere. Uno che è fallito sa come risolvere. Questa era molto interessante. Però questa dicotomia tra America e Italia io la trovo anche, per esempio, in un tema più chiaro, più da filasco fondante, per esempio, il tema degli immobili. Cioè, se noi vediamo, se noi presupponiamo che da secoli ormai l'economia si muove in due verticali, ovvero beni e servizi, il più grande lusso di una persona oggi è possedere un appartamento o comunque avere a che fare con la dimensione di casa. Sono 50 anni che la dimensione di casa in America è visto come servizio e non come bene. Il fatto che il immobile sia un bene è un fatto tutto italiano, una mentalità, non dico retrograda, però ha a che fare con il nostro velluto a costa interiore, capito? Invece in America è come la bolletta artigianista, insomma. È una spesa, c'è una multa alla casa. No, una cosa che condivido anche appunto con Giampiero, un artista incredibile, una persona eccezionale, un nostro amico in comune, è questa volontà di poter trasmettere qualcosa ai giovani, no? Vedo tanti ragazzi che vengono a Schettig24 a fare stage, a fare periodi di lavoro d'estate, le sostituzioni e alcuni di loro li vedo molto concentrati, focalizzati sull'imparare e altri sono più, diciamo, concentrati su altri aspetti del lavoro. Io quello che apprezzo moltissimo è chi chiede, chi fa domande, chi ti osserva, chi magari anche è un po' impaurito perché mi rivedo molto in loro, no? Ma che non si concentra solo su un aspetto del lavoro, la televisione, il condurre un telegiornale, fare l'encore, andare in giro, a raccontare storie, fare gli inviati, è una delle tante parti del nostro pensiere. ma non dobbiamo mai dimenticarci tutto il lavoro dietro, dobbiamo continuare a fare tutto il lavoro di base perché cercando di bilanciare tutto, perché ti permette di mantenere sempre i piedi per terra e per questo lavoro è fondamentale mantenere i piedi per terra e ricordarsi sempre da dove si è partiti e come si è iniziato. Quindi ecco, Giampiero lo apprezzo molto anche perché cerca di diffondere dei messaggi ai giovani, di semplicità, di raggiungibilitare il proprio obiettivo e di crederci, di lavorare duramente. Perseverare. Perseverare, esatto. Quindi ecco, una delle cose che mi piace molto fare è raccontare la mia esperienza perché comunque ho avuto sicuramente un'ottima famiglia che mi ha aiutato, però poi il percorso l'ho costruito io. C'è un problema. Quindi credo che tutti, ciascuno di noi, se c'è un ragazzo che vive nella provincia e con internet adesso tutto è molto più semplice rispetto a quando magari ho iniziato io. Però se uno vuole fare questa professione in maniera professionale, lo può fare, credendoci, studiando, impegnandosi, investendo. Magari avrai meno soldi nel portafoglio. Ma se investi su te stesso, sei un sognatore. Sei un sognatore, esatto. Quindi io mi auguro che magari di essere stata in grado di lasciare qualcosa. Assolutamente. Faccio un finito la domanda. Vai. Siccome io sono campana, quindi non sono, molto incline al letto, ti dico una cosa. Sintonizzati sulle mie note per capirla. Ok. Tu nasci adulta. Wow. Tu nasci come una ragazza a cui non c'è stato bisogno di dire di dover studiare, e l'hai fatto. Di dover viaggiare, e l'hai fatto. Di dover apprendere, di dover si informare, e l'hai fatto. Quindi per me, anche se non ti conoscevo da ragazza, quando immagino quella Valentina Clemente che non conosco, tra i 14 e i 28 anni, gli anni della giovinezza più nero, la immagino adulta, cioè già strutturata. Allora la domanda è, cosa vuole fare Valentina da piccola? È un'ottima domanda, non me l'aveva mai fatta nessuno. Sì, è vero, io sono sempre stata molto strutturata. La disciplina della danza, lo sport, mi ha aiutato molto ad organizzare i tempi, mi è capitato spesso di addormentarmi sui libri, perché dovevo studiare fino a tardi, arrivare sempre a ottenere ottimi risultati. Probabilmente a Valentina da piccola dovrebbe dedicare un po' più tempo a se stessa, a se stessa, alle relazioni, sicuramente, che non ho mai coltivato tantissimo. Questo è una cosa, non che mi rimprovero, perché comunque io sono... Risolta. Sì, sai quando ti dicono c'è qualcosa che non rifaresti? No, perché tutto quello che ho fatto l'ho fatto. E ha contribuito a... Sì, non sarei Valentina di adesso se non avessi fatto determinate cose, no? Quindi non... Non rinuncerei a nulla. Anche cose che magari hanno limitato altre, ne hanno limitate altre, questo sì. Però guardandomi al passato, magari cercherei più di coltivare le amicizie, di coltivare anche i sentimenti stessi. Ecco, una cosa che io non sopporto è non saper controllare le cose. Quando hai a che fare con un universo ingestibile come l'amore, sicuramente quello io vado in panico. È per quello che io... È come si ama. Esatto, cioè, nel senso, io preferisco mettere da parte e non ci sono problemi ma sono soluzioni. Però al di là di questo, quello è un processo su cui, diciamo, sto crescendo giorno dopo giorno. Ecco, la Valentina è allora, alla bimba, Valentina, direi, magari cerca di riservare un po' più di tempo per quello. In questo curioso caso di Benjamin Button, al contrario, un'adulta, a bambina. Sì, grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie.